Il dono di Dio Ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore che sono in Cristo Custodisci mediante lo Spirito Santo che abita in noi il bene prezioso che ti è stato affidato Pace a voi Gli apostoli dissero al Signore Accresci in noi la fede E' un desiderio che indica la gioia di credere Quando abbiamo il coraggio, la forza, il bisogno di chiedere come gli apostoli di accrescere in noi la fede E' segno che siamo gioiosi di credere E vorremmo che questa gioia possa crescere in noi A volte questa richiesta può essere anche dovuta alla paura di rimanere aridi Senza fede E sono le difficoltà che a volte ci danno questa impressione Ma anche quando fosse questa la spinta interiore La paura di perdere la fede, di rimanere aridi La grande e vera motivazione però è sempre la gioia di credere La paura di perdere la fede a causa delle difficoltà Per non perdere la gioia Perché la vera fede è il fondamento della vera gioia A questa richiesta il Signore risponde Risponde dando il senso della vera fede E dando anche la forza della vera fede Ma soprattutto indicando la via certa che fa crescere la fede La via certa è l'operosità A volte corriamo questo rischio Di pensare che la fede è grande E ci lascia un abbandono senza operosità Un abbandono fiduciare che deve escludere l'operosità Invece Gesù nel Vangelo di questa Domenica Alla richiesta di accrescere la fede Spiega La forza di questa fede E indica il cammino Quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato Dite Siamo servi inutili Abbiamo fatto quanto dovevamo fare Questo abbiamo fatto quando dovevamo fare E' alimento di fede Perché l'operosità fa crescere nella fede E l'operosità viene consegnata nella fede L'Apostolo Paolo Nello scrivere a Timoteo Ci porta ancora più avanti In questa riflessione Che nasce dal Vangelo E ci porta all'incontro di grazia Che è avvenuto nella nostra vita Attraverso il sacramento del battesimo Il sacramento della confermazione E ogni altro sacramento Che ci costituisce Come figli credenti Obedienti al Padre Allora Paolo dice a Timoteo Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio Che è in te Mediante l'imposizione delle mie mani E' un modo Per continuare a spiegare Come c'è il desiderio di accrescere la fede E come si può accrescere la fede Tenendo vivo il dono di Dio Il dono di Dio è proprio il dono di credere Il dono di Dio è proprio il dono di credere Con maturità Il dono di Dio è proprio il dono di credere Con maturità Nella vocazione che Egli ci ha dato Allora Quando si tratta di ravvivare il dono di Dio Si tratta di ravvivare Tutta questa vita interiore Che inizia col dono della fede E arriva alla missione E alla vocazione Che il Signore ci ha dato da vivere Proprio perché si tratta di arrivare A vivere nella missione e la vocazione Paolo ricorda a Timoteo Che in questo dono di Dio Non ci è stato dato uno spirito di timidezza Che in qualche modo frena E inibisce la nostra operosità Frena e inibisce il nostro slancio missionario Frena e inibisce il nostro abbandono fiduciare in Dio Ma in questo dono di Dio Ci è invece dato uno spirito di forza Di carità e di prudenza E la prudenza viene in qualche modo A portare la timidezza Nella capacità di fare i passi giusti Nella missione La forza e la carità sono propulsive La prudenza ci fa compiere i passi giusti Che non sono i passi della timidezza Che tante volte non fa compiere nessun passo Ma la prudenza come virtù e non come inibizione Ci permette di trasformare la forza e la carità Che vengono dal dono di Dio Con passi adeguati alla vocazione e alla missione Ma l'Apostolo continua ancora Continua invitando a non vergognarsi Non vergognarsi di offrire la testimonianza al Signore E di non vergognarsi dei fratelli che vivono la condizione di disagio Di persecuzione, di violenza, di incomprensione a causa del Vangelo Ecco che la testimonianza al Signore È legata alla testimonianza che noi diamo Della nostra vita fraterna Della nostra carità ecclesiale Si soffre insieme per il Vangelo La testimonianza non è solitaria Né è una sofferenza solitaria La testimonianza è un saper soffrire insieme con chi soffre O soffrire insieme per lo stesso motivo che è l'annunzio del Vangelo Questo dono va ravvivato allora Vivendo la propria vocazione nella missione Va ravvivato vivendo la testimonianza della sofferenza insieme per il Vangelo E tutto questo entra nella operosità Che fa crescere e accrescere il dono della fede Il dono di grazia e l'operosità Sono Il risultato Dell'azione in noi dello Spirito Santo Il bene prezioso Della fede e della vocazione Della missione e dell'operosità È custodito in noi per l'azione dello Spirito Santo È una custodia che preserva Ma è anche una custodia che accresce Lo Spirito Santo ci custodisce Nella complessità di questo dono Per accrescere in noi il dono ricevuto Non si tratta di ravvivare solo qualcosa che si potrebbe spegnere Eccolo la paura di perdere la fide Ma si tratta di moltiplicare I frutti del bene prezioso Che il Signore ci ha affidato Il cristiano non parla del minimo Il cristiano punta al massimo E nel puntare al massimo Non perde la coscienza Della sua inutilità Punta al massimo Mediante lo Spirito Conservando la coscienza Che è un servo inutile